Può partire la sigla della 5-Up Al quinto posto della nostra 5-Up settimanale troviamo il biker bergamasco Johnny Cattaneo protagonista di un ottimo avvio di stagione Dopo la vittoria di un panoglio di settimane fa a Sandona di Piave la scorsa domenica ha raccolto un buon secondo posto alla Gran Fondo Castello di Monte Riggioni Quarta posizione per un altro esperto biker orobico Oscar Lazzaroni della VR Compositi protagonista la scorsa domenica sui sentieri della Vecia Ferrovia de Olgià prima prova del supercircuito tre province Orobie Cup Dopo esserci andato vicino più volte nelle passate settimane ecco finalmente la meritata vittoria Terzo posto per l'allievo Nicola Zanoletti dell'Orobie Cup MTB Team che sempre domenica scorsa ad Olgià Tecomasco si è tolto la soddisfazione di alzare le braccia al cielo al termine di una bella prestazione davanti all'amico e rivale Giorgio Rossi Si è fatto un bel regalo di compleanno per i 15 anni compiuti proprio ieri Auguri! Con la seconda posizione lasciamo per un attimo la MTB e spostiamoci sulla strada per dare merito all'ottima performance di Nicolò Baiguini, Juniors del Team Aurea Un po' a sorpresa nella piccola San Gio disputata la scorsa domenica a Busto Arsizio si è reso protagonista della fuga che ha dominato la corsa e poi ha ottenuto un soddisfacente secondo posto Primo posto della nostra 5-up settimanale per l'alto attesino Gerhard Cashbaumer della TX Active Bianchi subito protagonista lo scorso sabato nella prima prova di Coppa del Mondo MTB in Sudafrica Per lui è arrivato un secondo posto alle spalle dell'austriaco Guy Bauer rivale di sempre e con il quale hanno praticamente fatto gara a sé